Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle notizie dal territorio. In Veneto cala il numero dei positivi che rimane comunque abbondantemente sopra i 10.000 casi in 24 ore, ma aumentano i morti. 46 sono le vittime in 24 ore, tanti troppi per ritenere che il virus si stia allontanando e diventando endemico. L'importanza della vaccinazione è fondamentale, aiuta a contenere il Covid e far sì che chi si ammala abbia la corazza per non subire gravi ripercussioni fisiche. In Italia sono ancora oltre il milione e mezzo gli over 50 da vaccinare contro il Covid, secondo il report della struttura commissariale dell'emergenza coronavirus guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. La percentuale maggiore dei non vaccinati viene registrata nella fascia d'età 50-59 anni, mentre scende nelle altre fasce. Ricordiamo che da questo mese scatteranno anche le multe con i dati sanitari incrociati a quelli dell'Agenzia delle Entrate. E c'è una notizia eccellente che arriva dal mondo della sanità. La sanità territoriale in Veneto si potenzia con quel connubio tra sanità e sociale che è risultato essere la carta vincente per una presa in carico a 360 gradi delle persone e dei nuclei familiari. Il Veneto si doterà di 99 case della comunità e di 30 ospedali di comunità diffusi sui territori di tutte le aziende sociosanitarie della regione che andranno a implementare in modo sostanziale la dotazione già esistente. E adesso andiamo a Venezia. Parliamo di un altro grande problema del territorio evidenziato nel servizio da Emanuele Compagno. Sentiamo. Situazione abitativa a Venezia. Confidilizia ha espresso in una nota la sua posizione con particolare riferimento alle difficoltà burocratiche che si rinvengono nella città lagunare per migliorare i mobili e anche per la realizzazione degli ascensori. Per l'associazione di categoria Venezia deve rimanere una città vivibile e vanno semplificati certi adempimenti burocratici. Recentemente l'associazione ne ha discusso e in particolare si è soffermata su una posizione ritenuta troppo formalistica degli enti pubblici competenti. Con riferimento agli ascensori, ad esempio, oltre all'approvazione dell'assemblea condominiale e del comune, ci si deve confrontare con la sovrintendenza. Questo rende difficile l'installazione degli ascensori, costringendo molti anziani a vivere nella terraferma, spopolando così la città lagunare. In altre occasioni vi è stato il consenso della sovrintendenza, ma il comune ha negato alcune trasformazioni per motivi volumetrici. Siamo venuti qui a Venezia per seguire insieme questa notizia, perché è sicuramente di interesse non soltanto per la città lagunare, ma anche per l'intero Veneto. E quindi siamo venuti qui, nella città più bella del mondo, per approfondire questa notizia e per vederne insieme tutti i dettagli. L'invito da parte di Confedilizia, quindi, è rivolto a tutti gli enti competenti, affinché snelliscano le burocrazie. Sempre sul tema degli immobili, è partito un appello al prefetto e al comune, sempre da parte di Confedilizia, in merito alla chiusura di tanti negozi, che può determinare fenomeni pericolosi, togliendo alla città quel presidio che la rende una città viva. Gli enti pubblici competenti dovrebbero fare di più per intervenire nei rapporti commerciali, onde consentire una calmirazione delle locazioni, poiché i negozi rappresentano anche un punto d'incontro tra popolazione e le vetrine illuminate anche una speranza che conferisce senso di sicurezza. Un aiuto pubblico potrebbe muoversi anche in tema di IMU e di plateatici. E adesso parliamo di prosciutti. Servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine ha disposto il blocco delle attività di un prosciuttificio della zona di San Daniele del Friuli. Da accertamenti dei NAS è emerso che per un ampio lasso di tempo sono stati effettuati trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura successivamente immessi in commercio. Parliamo di incidenti stradali in Veneto. Questa mattina una donna è rimasta ferita a Ponte delle Alpi. Sentiamo. Una donna è rimasta ferita in un incidente avvenuto in località Cadola a Ponte delle Alpi poco prima dell'ingresso dell'autostrada. L'auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada rovesciata. La conducente ferita con l'aiuto di alcuni passanti è riuscita a venire fuori dal mezzo e successivamente è stata trasferita all'ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza la macchina. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Un altro incidente alla stessa ora è avvenuto a Sartenna nel comune di Santa Giustina nei pressi del Bivio per Col Cumano. Anche in questo caso un'auto è finita fuori strada. Ferito l'uomo che si trovava al volante. Poco più tardi verso le 11.30 in via nazionale a D'Arsie invece scontro tra due automobili, due i feriti fortunatamente in maniera lieve. Sul posto è stato indispensabile l'intervento dei pompieri come anche negli altri incidenti stradali. Hanno messo in sicurezza i mezzi e i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. Momenti tragici in un supermercato di 90 in provincia di Padova. Un uomo di 53 anni è stato colto da un malore fatale mentre si trovava alla cassa. 53 anni, Cesarino Guglielmi che abitava a Vigonza, sempre nella provincia di Padova, in pochi istanti se ne è andato. È stato immediatamente soccorso dai presenti e dal 118 gli operatori hanno tentato, si sono prodigati per riuscire a salvarlo ma purtroppo il malore è stato fatale. Sono in corso di accertamento. Le cause di un incendio divampato questa mattina erano intorno alle 6.30 quando da un'abitazione di Asiago sono divampate le fiamme dal tetto. Vi raccontiamo cosa è successo. Poco dopo le 6.30 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Prestinaria ad Asiago per l'incendio del tetto di un'abitazione disposta su due livelli. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, tutti sono riusciti a mettersi in salvo. I pompieri, accorsi dal locale di staccamento e successivamente con rinforzi da Schio e Bassano del Grappa, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a sezionare la copertura ed evitare un incendio generalizzato. Le fiamme hanno intaccato esternamente un poggiolo in legno andato completamente distrutto e parte del sottotetto in legno coperto da una guaina metallica. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate nel primo pomeriggio. È scattato finalmente il semaforo verde in Veneto per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria ad aiutare la nostra regione che, come è stato ricordato più volte, gli scienziati definiscono per la sua particolare conformazione che rende difficile il suo ricambio di aria unica al mondo e la mutazione delle condizioni meteo. La ventilazione, che è stata presente fino a poche ore fa, ha favorito in queste ore la dispersione delle polveri sottili. L'ARPAV ha evidenziato che il superamento dei limiti era atteso sui valori di poco superiori alla norma e quindi l'aria è diventata più sana. Ovviamente dovrebbe mantenersi così anche per i prossimi giorni. Poi vedremo le condizioni anche per il weekend. Il 5 febbraio si celebra la giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. Tra i tanti sprechi di cui siamo protagonisti ogni giorno, lo spreco alimentare non è solo dannoso per le tasche delle famiglie ma anche per l'ambiente, la società e per il livello di nutrizione. Non è un caso che il dodicesimo dei 17 obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sia dedicato al consumo e alla produzione sostenibili, nel quale rientra il cibo e la lotta allo spreco alimentare. Sembra difficile da credere ma secondo Adconsum, noi consumatori, siamo i principali responsabili dello spreco alimentare. cambiando i nostri comportamenti dicono possiamo contribuire efficacemente a ridurlo attraverso una spesa consapevole e la gestione attenta degli alimenti sia nell'uso che nella conservazione. E adesso è arrivato l'appuntamento con la nostra rubrica di storie. Allora diamo subito il benvenuto all'esperta Marisa Sottovia che questa sera ci parla di Donatello. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Donatello che fu scultore, pittore e architetto. Fu uno dei padri del rinascimento fiorentino. E allora conosciamo l'artista che nacque a Firenze 1386. Il suo vero nome era Donato di Betto di Bardi. Il papà era un cardatore di lana e la famiglia versava in condizioni molto modeste. Non sappiamo molto della sua formazione, ma è certo che fin da giovane collaborò con uno che era il gigante della scultura di quel periodo, Filippo Brunelleschi. Donatello fu innovatore dell'arte scultorea, superando i canoni del tardo gotico e inventò lo stile stiaciatico, cioè era una tecnica che permetteva di realizzare un rilievo con le minime variazioni. Donatello per la sua produzione fece utilizzo di molti materiali, ricordiamo il bronzo, legno, marmo, pietra e anche terracotta. Nella sua città Firenze realizzò opere straordinarie, come la porta della mandorla del Duomo per la Signoria dei Medici. Inoltre ricordiamo le due cantorie scolpite nella cattedrale di Santa Maria in fiore appunto di Firenze. Ma il suo capolavoro è il Davide. Nel 1443 Donatello arriva a Padova, ha 57 anni e realizza diversi capolavori, ma ricordiamo soprattutto il monumento equestre e la statua dedicata al Gata Melata, di cui abbiamo parlato recentemente. Ricordiamo che realizza il crocifisso, l'altare maggiore della Basilica del Santo. Inoltre realizza statue importanti di santi, ricordiamo San Daniele, San Francesco, Santa Giustina, San Ludovico e poi anche San Prosdocimo. Lui rimane a Padova per dieci anni. Poi, superata questa fase della nostra città, ritorna a Firenze. A Firenze continuano i suoi capolavori. Ne ricordiamo uno, soprattutto il gruppo di Giuditta e Oloferne. Donatello muore nel 1466, ha 80 anni, muore abbandonato, ammalato. Non si arricchì mai, anzi si racconta che visse in affitto. Quindi si tratta di un artista che per la nostra città è stato fondamentale, importante, che ci ha lasciato, appunto, ci ha consegnato i capolavori che abbiamo citato e che sono da visitare. Grazie a Marisa Sottovia, esperta di storia. Vi ricordo che tutte le rubriche di approfondimento sono disponibili all'interno della nostra app scaricabile negli smartphone e all'interno del nostro sito internet www.telecittà.tv dove potete seguire anche la televisione in diretta ed essere aggiornati con l'informazione. Uno sguardo alle condizioni climatiche tra domani e le prossime ore lieve cedimento della pressione per il transito di una saccatura di aria fredda sull'Europa settentrionale che tenderà a spostarsi verso l'Europa sud orientale lambendo il Veneto nella giornata di sabato con condizioni di variabilità. Domenica temporanea ripresa della pressione fino a sera quando giungerà un nuovo impulso di aria fredda proveniente da nord. Lunedì sul Veneto si avranno ancora annuvolamenti irregolari in mattinata associati a qualche precipitazione sui settori settentrionali. E dunque abbiamo visto anche una panoramica della clima. Noi siamo arrivati al termine di questa edizione delle notizie. Ringrazio tutti voi per l'attenzione. e adesso ancora informazione a cura di Talpresso 24. Vi auguro una buona serata.